E comunque oggi con noi c'è Caverna di Platone perché nel nostro momento random ho deciso di fare una cosa carina ho visto che ultimamente vi sono piaciute le tier list, vi piacciono molto le tier list a tema manga e anime e quindi ho deciso di chiamare Caverna di Platone per fare una delle tier list secondo me più calde di sempre e probabilmente più richieste se l'avessi mai annunciata ma non l'ho mai annunciata l'ho deciso di fare così a caso e quindi oggi facciamo una bella tier list delle saghe di Dragon Ball ovviamente con Cavernone perché chi meglio di lui Domenicone si parte, si parte con la saga di Pilaf, bello Si può dire la più bella in assoluto? Quella che racchiude tutto Ah puoi partire subito così proprio Eh la saga di Pilaf è Sayuki e Action, è piena di folklore Ci sono anche tanti filler probabilmente perché alla fine la loro avventura si poteva concludere molto prima sintetizzata forse anche meglio nel film Il Cammino dell'eroe però alla fine è molto divertente vedere che loro incontrano tanti personaggi misteriosi che si possono trasformare, gli animali antropomorfi, poi ci sono i dinosauri cioè è un mondo dell'immaginazione dove può accadere qualsiasi cosa Sono d'accordo, secondo me bisogna anche dire che la prima saga di Dragon Ball è stata super introduttiva per tutta un'altra serie di cose che hanno cambiato ovviamente la storia manga quindi il mondo a metà tra il preistorico, il fantascientifico di Akira Toriyama con quei mezzi che abbiamo elogiato tantissime volte, il design dei mezzi, il design degli edifici proprio i sistemi che si inventava per risolvere i problemi tipo le capsule o i poiche ovviamente servivano tantissimo ai nostri avventurieri per trovare le sette sfere del drago è la reinterpretazione contemporanea appunto di Viaggio in Occidente è uno dei manga, è una delle saghe anzi più progressive che ci sono cioè i nostri eroi incontrano sempre più personaggi che arricchiscono il party ci sono cattivi sempre più pericolosi anche se non sono affatto pericolosi per il nostro Goku che nella prima saga è potentissimo e poi ci sono misteri, c'è il mistero di Olong, c'è il mistero dell'omini coniglio insomma c'è qualsiasi tipo di roba e soprattutto c'è la grande introduzione, le sfere del drago certo, c'è la grande introduzione delle sfere del drago e soprattutto c'è anche un culmine secondo me finale dato che negli ultimi giorni, anzi proprio oggi si parla di grandissimi culmini che finiscono poi sopra attributi vari secondo me la trasformazione di Goku in Ozzaru può essere una delle cose più belle che si possono considerare insomma nella storia del manga ci pensi, lui che spacca la prigione di vetro, di cristallo, di Pilaf che gli avrebbe abbrustoliti durante la notte in luna piena è un momento altissimo poi quando arriva Sharon tutto prende un'altra forma tutto diventa epico il mood ironico, anche erotico, che ci piace il primo Dragon Ball diventa improvvisamente epico, austero fantastico top, top saga concordo con te quindi primo Z va bene secondo me sì, sì sì, è un Dragon Ball a sé in un certo senso poi si va verso l'introduzione delle arti marziali anche i colpi energetici insomma, se si va a pensare alla prima saga c'è praticamente già tutto e bastava anche così e invece poi Toriyama ha gettato ancora più benzina sul fuoco con le saghe che verranno dopo e infatti c'è già la prima virata verso qualcosa di più di più, come si può dire, di più beh sicuramente muscolare è muscolare, sì, però un accenno secondo me perché comunque ci sono all'interno tante cazzate e arriviamo appunto alla saga del primo torneo Tenkaichi no Tenkaichi, non so quale sia la pronuncia esatta Tenkaichi, va bene non facciamo i professoroni calabresi della prima ora, dai allora il primo torneo Tenkaichi per me non è Tenkaichi, insomma che dir si voglia non è il miglior torneo almeno non lo trovo il miglior torneo perché comunque era secondo me né carne né pesce cioè c'era tanta voglia di Toriyama di accontentare il pubblico più voglioso di lotte, di botte insomma a quel periodo andavano tantissimo anche Dragon Ball cercò di adattarsi al mood dell'epoca introducendo però nuove cose che hanno rivoluzionato il mood che Toriyama stava inseguendo è pazzesca questa cosa lui voleva accorparsi agli altri in realtà è andato sopra gli altri improvvisamente e però conservava anche tanto dell'animo ironico, scemo, del primo Dragon Ball perché c'era il naso di Krillin, lo sciroppo catarroso la tecnica tirata fuori dal nulla delle palme fantasmagoriche insomma c'è una bella vorrei dire l'unfan, ma quale tecnica è semplicemente nuda mi sfoglio la mia tecnica di arti marziali è quella non credo sia una tecnica di arti marziali quella o la tecnica dell'ubriaco di Muten anche insomma di Jackie Chan anche quella tirata fuori un po' così insomma c'erano tante cazzatone era un torneo molto molto scemo oppure cos'è sempre nel primo torneo? c'è il direttore del torneo che vuole contribuire e dice Bau e poi dentro il nome tutelare del torneo chi è un cane? dice Bau senza dire niente di che però è super divertente sì è divertentissimo però non aveva ancora trovato il suo era un po' questo e un po' quello era un po' tutto era molto Dr. Slump è questo il problema cioè all'inizio soffriva ancora di questa roba qua cioè voleva metterci a tutti i costi delle cose divertenti però doveva essere pure action e queste due cose non collimano bene quando i personaggi sono morbidi insomma come in queste prime saghe ancora ancora poi dopo diventa veramente complicato allora io cosa gli diamo? ha inventato il torneo però c'è da dire questo allora c'è da dire che seppure non è la cosa che voleva fare Toriyama e lo sappiamo benissimo l'ha dovuto fare semplicemente perché altrimenti Dragon Ball si affossava e lo chiudevano io lo metterei un po' più basso non lo metterei in S non lo metterei in A sì dai anche perché ragazzi i tornei dopo sono molto più belli non c'è niente da dire molto meglio Red Ribbon Army Saga vabbè ok questa è la prima parte della saga del Red Ribbon perché poi loro ci hanno messo anche la saga del Generale Blue che effettivamente gli mette un po' più in difficoltà rispetto al resto e poi la chiusura della saga senti io accolperei tutto facciamo una sola cosa eh sì sì non ha senso dividere dai sì anche perché cioè posso capire che siano blocchi di episodi immagino che questa sia una divisione in base anche a quello che hanno visto in tv esatto cioè è però veramente per noi è una cosa sola anche perché c'è Garlic Jr. quindi ma è un macro argomento incredibile cioè anche dividerlo secondo me gli toglie valore comunque è interessantissimo riesco anche ad intuire perché li abbiano divisi in questo modo qua oltre ai nemici perché pure tematicamente Goku cresce e vede tante cose diverse sì nella saga del Red Ribbon vede effettivamente il marcio dell'uomo però ci sono anche uomini che dalla parte del male hanno degli obiettivi che sono nobili che sono degli obiettivi certo per il dominio del mondo certamente ma sicuro meglio di diventare più alto di 5 cm quello sì sicuramente che era sempre una delle belle cazzate di Toriyama però all'interno di questa saga c'è tutto perché innanzitutto si introduce una vera e propria minaccia perché nella prima saga questa minaccia fondamentalmente non c'era pila a ferra più una butade era una stronzata cioè non era una cosa che spaventava i lettori il Red Ribbon invece come te lo descrivono gli abitanti di questo pianeta e per come agiscono con i fucili ammazzano la gente proprio un sistema dittatoriale ecco spaventa un po' e soprattutto allarga ancora di più il mondo di Dragon Ball perché ok che Goku va a trovare Bulma e tutto però il fatto che esista un esercito che spaventa che minaccia la terra insomma allarga un pochino di più la lore il war building del manga che non era per niente male però a cazzo la scalata della torre di Goku per sconfiggere la Muscle Tower la Muscle Tower bellissimo con il mostro all'interno il recupero della sfera poi Tao Bye Bye il generale blu il pezzo finale dove lui entra nel castello Red Ribbon e sfonda tutto insomma veramente tutto eccezionale Ottavio viene introdotto il primo android il capitano metallic che era Spazenegger praticamente era roba bella secondo me una roba veramente stupenda a me ha sempre affascinato tantissimo il Red Ribbon è anche bello la parte del generale blu quando loro vanno nella base dei pirati sottomarina bellissimo che trovano il tesoro il diamante nelle mutande di Bulma che bella quella cosa è e Krillin annusa si 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 anche se prima non ha il naso per quello però per la topa si ce l'ha improvvisamente è quello perché no quello sempre poi vabbè cazzo la scalata del monte del monte del 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 santuario di Karin il pilone gigantesco insomma è bellissimo lui che risveglia la prima volta la forza si mischiano tantissime cose perché c'è anche la battaglia con Taobaibai che è una delle battaglie più più aspre è la vera prima mina è la prima vera cosa che mette in pericolo Goku che mette che lo mette in difficoltà perché prima sembrava invincibile prima sembrava poteva succedere veramente di tutto lì vediamo l'onda Dodon il Dodon per la prima volta con Goku colpito quasi a morte pensi oddio potrebbe essere successo tutto invece perché con Jackie Chan viene messo in difficoltà ma comunque lo sai che è una roba più amichevole è più una competizione sportiva qui proprio è un insegnamento quello che gli fa Muten comunque non lo avrebbe ucciso invece l'onda Dodon sparata proprio in faccia così perché quello è un assassino io penso che una delle scene più belle di Taobaibai non sia nemmeno quando lui stacca la colonna la lancia te dici la lingua la lingua vero? nemmeno è un filler dell'anime praticamente c'è un mercenario che vuole ucciderlo e gli punta la pistola alle spalle lui percepisce l'intenzione omicida con il sandalo lo fa saltare col piede dietro da un colpo di tacco il sandalo sale in su para il proiettile va in avanti nel frattempo che va in avanti lui l'ha già ucciso ricade il sandalo e se lo rimette preciso un solo movimento quel filler lì non me lo ricordo però la scena che mi impressionò da ragazzino fu sicuramente lui che con la lingua uccide quella roba lì mi ha dato veramente fastidio è iconica anche schifoso con la lingua della tempia proprio e poi quanti nemici sono nella muscle tower cioè murasaki pure divertentissimo lui sott'acqua con la cosa con la cannetta con il bambuco per cercare di sopravvivere ok quindi io la metterei in S perché comunque per me non supera pilaf perché è troppo iconico pilaf cioè pilaf la saga delle sette sfere chiamiamola così esatto S da S ti va bene S ci sta sì sì ci sta per me precisa ok vai oh ok la saga cioè il torneo di baba della vecchia sdilla oddio oddio olla olla pari nella bolla che cazzata quella come però mi è piaciuto perché è veramente una stronzata dopo l'altra quella la mummia devilman tutti i combattimenti assurdi e poi soprattutto cioè praticamente combatte contro i mostri del cinema horror i classici sì 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 però 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 c'è il momento che per me me lo fa andare in zeta cioè il momento go è il momento lacrimuccia nonno sei te nonno quello è veramente un momento incredibile uno perché vediamo per la prima volta gohan perché nel manga appare per la prima volta qui e due perché vediamo goku che si lascia andare a lacrime copiose a un'emozione praticamente nuova perché rincontra il parente che gli ha insegnato tutto parente che viene un po' dimenticato poi successivamente che peccato sì per fortuna nei filler di dragon ball ritorna infatti l'ultimissima avventura che goku avrà insieme a cc prima di sposarsi e consta anche nell'incontrare gohan però solo nei filler di dragon ball purtroppo nel manga poi sparisce vabbè comunque questo è super divertente questa qua questa saga stupidina divertente poi ci fa vedere effettivamente proprio l'umanità di goku te lo fa vedere quando devilman gli spara il raggio a kumite e lui non muore non esplode perché non ha malvagità nel cuore purissimo e quindi nulla lo può scalfire sì sì il concetto già visto nella nuvola nella nuva kinto però vabbè comunque è ganso lo stesso e poi anche vabbè l'uomo invisibile che diventa visibile grazie al sangue prodotto da muto e perché vede le tette di bulma poi c'è della nuova allucinante no no bellissimo tutto bello non lo so però cosa vogliamo fare S o Z per te ma secondo me S Z lo riserviamo per il top perché è troppo una cazzatona questa cioè divertentissima però è troppo scemo ok Tenshinhan saga vabbè ma non la definirei tanto una saga più che altro è il secondo torneo allora sai perché la chiamo così perché nell'anime comincia proprio con l'introduzione di Tenshinhan e Chaotsu che combattono contro una specie di cinghiale farfalla quello me lo ricordo Lino Shikacho questo mostro che era altissimo mi ricordo c'era la gobba altissima esatto però ecco qua secondo me si vede veramente tanto la crescita di Tenshinhan perché parte come allievo di una scuola di assassini e poi Muten riesce a fargli cambiare idea riesce a prendere quel poco di bontà che era rimasto e a farlo rifiorire questa è una cosa veramente bella gioca sul fatto che lui è un artista marziale ti senti uno che si vuole mettere in gioco e allora sicuramente uccidere gli altri non è mettersi in gioco uccidere gli altri è il male tu devi seguire la via del bene per mettersi in gioco e migliorare lui lo capisce cresce a me piace perché è il primo è la prima saga Koopa di Dragon Ball Koopa tanto perché a parte il momento che è fighissimo e tutto però qua c'è la morte la vera la vera la prima morte importante perché poi si c'è il papà di Upa ma sti cazzi insomma Bora l'importante qui more Krillin per la prima volta e more male tra l'altro lo trovano già morto e l'assassino sparisce c'è anche un po' una componente thriller strana boh a me è piaciuto tanto questa roba qui e poi anche personaggi anche Tenshian e Jozo all'inizio sembrano veramente super stronzi l'eremita della gru sembrava una merda con l'occhiali da sole diciamo la controparte di Muten a me è piaciuto sono bellissimi gli scontri bellissimo come si arrende Jackie Chan perché sa che può contare sulla nuova generazione quel momento lì è molto alto non lo so non lo metto in Z perché per me c'è di meglio però un S che questo torneo se lo merita sicuramente guarda ma forse la potremmo mettere anche in A davvero perché perché dici ma perché secondo me alla fine un po' come dicevi tu si ripetono degli elementi che però non sono così importanti perché alla fine Tenshinhan ha una crescita incredibile come personaggio secondo me ruba un po' la scena Goku e non si deve permettere vabbè secondo me invece era interessante perché stava facendo un'avventura di amici e secondo me si poteva anche un po' più soffermare su altri ma ha sempre voluto un po' staccarsi da questo però non ce l'ha mai fatta del tutto perché Goku era troppo forte rispetto agli altri come personaggio grazie a me San Giochristi è super iconico come si fa ok la saga del grande mago piccolo vai vai vogliamo qui io vado subito in Z e poi giustifichiamo nel caso va bene vuoi partire te allora qui veramente vediamo il dolore la morte la devastazione la preoccupazione la paura vera perché i nemici c'erano anche prima qualcuno moriva anche prima ma ha detto Dario Bora però con le sfere si risolveva e cosa fa piccolo invece quel verdognolo maledetto va lì piglia le sfere esaudisce un desiderio e uccide il drago quando uccide il drago io ho detto no ma si può fare questa cosa prima palesemente non si poteva fare ora si in quel momento magicamente si poteva fare ma gli fa una fiatata uccide il drago è assurda quella roba perché ti rimette tutto in discussione allora tutto quello in cui credevi anche diciamo l'ultima salvezza delle sfere non c'è più e cosa fai e devi combattere sul serio stavolta non ci sono scappatoie no non ci sono scappatoie e poi il fatto che introduce il primo esercito di mostri vero e proprio la dragon quest totale cioè c'è il boss finale che è il grande mago piccolo che è un mostraccio infame con tutte quelle placche perché noi ora diamo per scontata l'esistenza di le ameciani la mech tutto il complottone di freezer va bene ma ai tempi era un mostro e basta il grande mago piccolo era un mostraccio pieno di placche merdosissimo che vomita le uova le vomita in una maniera super horror si gonfia tutta la gola e poi lo vomita a terra praticamente e crea altri mostri schifosissimi e il fatto che sia veramente un killer spietato che non gliene frega assolutamente un cazzo puro per il puro gusto di esserlo ci faceva veramente tanta tanta paura e poi shottavano shottavano eroi che avevamo visto crescere avevamo visto allenarsi sacrificarsi per essere sempre più forti vengono shottati da un minion del boss quindi questo boss quanto cazzo è forte infatti goku viene messo in difficoltà e solo grazie a degli stratagemmi e ovviamente a un allenamento riesce a poi a sconfiggerlo però insomma questo questo è sicuramente interessante secondo me uno dei momenti più belli è quando piccolo dopo aver conquistato anche il castello del re del mondo arriva là in mondo visione fa trasmettere questo messaggio e dice io sono il nuovo re del mondo da adesso in poi ogni città verrà distrutta una città all'anno questo è il giorno di piccolo la celebrazione di piccolo il 9 maggio è veramente tutto tutto meraviglioso anche con il combattimento Tenshian che cerca di indebolirlo poi arriva Goku al salvataggio ecco tornano anche quelle cose perché Tenshian vede la tecnica che fa Muten e si capisce che è un genio perché lui la vede soltanto e la impara dice ok posso provarla questa cosa qua e infatti Muten si preoccupava di sta roba dice io non te la posso insegnare perché questa tecnica ti fa morire e perché Tenshian non muore che lui la performa tante volte perché lui col Kiko che mette in gioco sempre la vita e non il Kiko lui è temprato lui già lo sa fare capito? lui è fortissimo ma e poi soprattutto il vedere il passato di Muten che te hai sempre visto come un personaggio idiota rincoglionito che gli garbano le donne si bravissimo nelle arti marziali però fondamentalmente un idiota qua diventa immediatamente un personaggio serissimo con un passato tremendo gli è morto il maestro tra le braccia perché si è sacrificato per intrappolare il grande mago piccolo con la ma fuba una tecnica tra l'altro stupenda anche a livello scenico con tutto quel tratteggio a spirale cosa eccezionale che poi dovrà essere replicato dai giovani quindi si Muten si è arreso per i giovani ma i giovani non riescono a sconfiggere una vecchia minaccia che ha messo in difficoltà anche lui da giovane insomma tutto un grande ciclo una ciclicità che torna in Dragon Ball che per gli ama ha scazzato completamente poi mi deve spiegare perché il grande mago piccolo non produceva nameciani ma produceva dinosauri però questo non lo sapremo mai corrotto dalla malvagità degli uomini probabilmente per quello o perché si era scomposo si era diviso e quindi creava dei nameciani a metà degli aborti di nameciani non lo sapremo mai però però questo ovviamente siamo un po' in easy hoisin della situazione che creano romanzi per fixare creano fanfiction sappiamo i buchi sappiamo noi i buchi però insomma è una saga eccezionale ma anche a livello estetico il trono di Pig del grande mago piccolo l'arca volante su cui con cui viaggia per il mondo si 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 che poi di Pilaf l'hai rubato a Pilaf e poi bellissima è bellissimo anche che vediamo il re del mondo va a minacciare il re del mondo per conquistarlo è tutto fantastico e il re del mondo che si fida per la prima volta capisce che c'è un eroe e di di Goku diventa tipo uno Spider-Man una Avenger diventa l'eroe del mondo e il re del mondo sa che esiste che è un gattone con i baffoni non so se era un cane o un gatto non ho mai capito un cane è un cane ok si è vero un cane con i baffoni capisce che c'è un eroe e poi tornerà tra l'altro questa cosa ai miei tempi ci fu un eroe che ci salvò e che magari torna si nella saga di Cell praticamente se ci fai caso il cane si omiglia allo Yorkshire della carica del 101 si è quasi uguale si è vero e poi è ispirato Toriyama a disegnare a fare il manga fissatissimo lui con quella roba sempre Disney comunque Tezuka con Disney Toriyama con Disney ok il terzo torneo a cui partecipano i nostri eroi il torneo di piccolo insomma del figlio legittimo stavolta perché è un nameciano del grande mago piccolo quindi la teoria della malvalicità secondo me non torna molto perché comunque poi vabbè chi lo sa magari in quel momento se l'avrà veduto in quel momento in punto di morte in punto di morte un pochettino probabilmente allora ti dico già che questo è il mio torneo a Tenkaishi preferito perché? perché è pieno di colpi di scena Domenico pieno colpi di scena belli tra l'altro e follie visive e contenutistiche assurde cioè piccolo che si ingrandisce Goku gli entra in bocca in realtà Dio scende sulla terra prendendo il corpo di un umano e quest'umano gli fa la mafuba ma lui lo frega perché respira contro mafuba poi ho imparato dagli errori di mio padre ho imparato dagli errori di mio padre lo butta in una boccetta ancora più piccola del termos per bollire il riso se la magna Goku la recupera l'onda energetica a piedi qualsiasi cosa succede in questo torneo secondo me il vero colpo di scena sai qual è non sono tutte queste cose e quando dopo tutte queste cose Muten dice guardate Goku non ha mai avuto il fiatone si si mentre Tashian si è fortissimo e lui preparati a prendere la mia super kamehameha e carica un'onda energetica gigantesca mai nessuno l'ha fatto prima e poi alla fine conserva la tecnica della buku jutsu del volo nessuno sapeva che Goku sapeva volare perché voleva tenersela come colpo di scena finale non voleva rovinarsi non l'ha usata prima per quello e poi introduce delle cose che sono un po' sottovalutate ma in realtà sono importanti il ki esatto quello ma il fatto di vedere questo piccolo che c'ha in realtà poteri mai visti prima perché questo comunque si ingrandisce può ingrandirsi le braccia che si allungano cioè c'ha delle cose stranissime delle tecniche che nemmeno i terrestri e i saian poi scopriamo dopo l'esistenza di saian potevano fare mai e poi un'altra cosa che ora mi sto scordando che viene introdotta qua e poi viene ripresa sempre non mi ricordo vabbè poi c'è il matrimonio tra virgolette di Goku i vecchi personaggi che si che tornano vabbè te come lo metteresti? allora lo metterei ma secondo me potrebbe stare in S un poco sotto la sagata di bravo Steven oh mi è venuto in mente il fatto che si levano i vestiti pesanti per essere più veloci quella cosa che fanno poi sempre bellissimo non mi ricordavo più Goku c'ha 100 kg di vestiti addosso la prima volta quindi nessun torneo in Z attenzione sì c'era un altro ma secondo me non arriva a quei livelli cioè quello con di boom insomma però non è vabbè 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 mettiamo in S io l'avrei messo più no il gaming non lo metto in Z ci sono troppe troppe cose che non riesco a digerire di quella roba ma non è nemmeno un torneo dai allora io accolperei Raditz Vegeta e Nappa facendo la saga dei Saiyan così almeno accolpiamo va bene che dobbiamo sì questo Z questo Z dai dove allora capiamo al massimo S perché dopo c'è Namek al massimo ti concedo questa cosa no 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 allora facciamo questo Z perché io non amo e chi in Z non ce lo metto no no non ce lo metto come no secondo me si perde troppo tempo su Namek pia la sfera nascondi la sfera trova la sfera metti la sfera la pio sotto la metto sotto vegetale prende poi le perde no non sei d'accordo vabbè intanto dimmi dimmi dei Saiyan dai dimmi dei Saiyan per me dentro la saga Saiyan c'è il miglior combattimento di Dragon Ball partiamo da questo presupposto battaglia ideologica tu sei spazzatura io sono il principe per natura sono più forte di te non è vero ti dimostrano che la spazzatura se si impegna diventa un ottimo guerriero benissimo vediamolo e non lo era beh Vegeta era superiore comunque in ogni caso si è vero perché ci sono volute tecniche assurde che mettono alla prova il corpo e lo spirito un lavoro di gruppo assurdo tagliare la coda cioè 400.000 cose fisico resisti ho bisogno di un triplo Kaioken cioè e con piange e comunque Vegeta non lo mette in difficoltà cioè non è che non lo mette in difficoltà non muore riesce a scappare si per la pietas di Goku è come la gramigna si 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 però 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 secondo me interessantissimo il modo in cui Toriyama ti riscrive completamente le origini di Goku a giusta due tre cose che erano state raccontate prima e tu dici ma sai che alla fine tutto sommato funziona che lui sia un alieno che quando si trasforma in scimmione è perché è un alieno e non è una cosa magica è la sua caratteristica e ci sono altri come lui e gli altri come lui sono fortissimi cioè Radici era una merda nel gruppo dei Saiyan ma è fortissimo rispetto a Goku tipo sette otto volte più di lui non ce l'avrebbe mai fatta senza Piccolo e lì secondo me si crea un rapporto molto particolare questi due grandi nemici Goku e Piccolo che si uniscono a combattere e poi diventano grandi amici le loro famiglie si uniscono molto è bella sta cosa è bella però in realtà proprio tutto il combattimento finale è la cosa che me lo fa valutare benissimo perché a parte le origini di Goku che è interessante ci cerca di dare un passato anche se è una roba rivista è tutto Superman praticamente quello che mi piace tantissimo è il fatto di vedere questo combattimento all'ultimo sangue dove veramente si dà il tutto per tutto cioè Goku pieno di sudore pieno di sforzo fisico colpi di scena la Genki Dama il Kaioken il taglio della coda all'improvviso la trasformazione stessa di Vegeta che però è controllata rispetto alla trasformazione di Goku che invece era follia perché era buono questa Energy Ball quando la distruggerò assorbirà l'ossigeno del pianeta quella roba lì è fantastica e arriverà a 17 milioni di Zenos così io diventerò un cibione gigante ma com'è possibile se ho fatto che cazzo ne sa Vegeta crea una nuova luna ma poi Cyberman c'è Nappa che viene distrutto la Vegeta perché è troppo una merda ma è incredibile perché poi è spiegato perché ci ha fatto mille cose con Nappa cioè il suo compagno di avventure proprio allora lei lo uccide non solo perché è inferiore è perché ha contravvenuto a un suo ordine perché gli aveva detto ritirati e ora vado a combattere io e Nappa invece ha voluto contravvenire doveva uccidere Krillin Gohan e Goku gli spezza la schiena giustamente devo distruggere in un secondo perché usa il Kaio Ken per la prima volta lì davanti a tutti e poi vabbè ragazzi il serpentone il recaio il sacrificio di Pico il sacrificio di Pico bellissimo Goku che more non scordiamoci sta roba qui che è una roba comunque di impatto nonostante poi non significhi più nulla anche quella roba lì però insomma questo è e l'introduzione di Gohan poi soprattutto che diventerà già ma dimentichiamocela sì certo lo abbiamo per scontare perché noi ora stiamo dimenticando robe perché sono talmente scontate sono talmente nel nostro DNA che manco ci pensiamo cioè manco le denunciamo perché cose scontate va bene dai dai Z dai ci sta e beh qui inizia Z ok no Namek però non in Z io non ce la posso fare Domenico cioè quella roba che ti dici troppo tempo è noioso io la reputo una cosa incredibile cioè il fatto che Toriyama abbia sforzato talmente tanto la sua fedrizia è tipo un RPG beh capito è tipo un Dragon Quest quella cosa ti ho capito e io ti capisco cioè strategico piani finalmente un piano cioè non è semplicemente ok il piano prima era dentro allo scontro cioè uso questa tecnica perché ti inculo così qui non è solamente un fatto di inculare a livello fisico qui proprio inculare a livello mentale cioè sconfiggere Freezer non passando attraverso la forza ma attraverso l'intelligenza questa è una roba fighissima cioè ma poi ma poi vorrei mettere che questo ha introdotto Freezer questo ha introdotto il design di un cattivo più bello di tutti i tempi questo ha introdotto il risveglio della forza con il caposaggio l'impero di Freezer questo pianeta super pigro perché veramente due arborelli e tre stronzate l'ha caratterizzato meglio di tutte queste cazzo di ambientazioni che vogliono far ora chiassose inutili pompose che lui te la ha quando lui ha detto questa cosa io ci sono rimasto ho detto no vabbè ma tanto io ho detto dobbiamo fare un pianeta alieno dove però diciamo che uno che è venuto da questo pianeta poteva navigare sulla terra sai che faccio? ma io inverto il colore del cielo e il colore dell'erba ho risolto a posto fortissimo la squadra genio tutti con tecniche abbastanza diverse uno era più veloce l'altro bloccava il tempo e l'altro faceva il trasferimento del corpo e poi e c'è il Super Saiyan dentro la saga dentro Namek Super Saiyan secondo me Super Saiyan secondo me un po' inflazionata ecco ma che cazzo vuol dire che è inflazionato è inflazionato è vegeta sempre lì a fare puntare cazzo io sono il Super Saiyan sono il Super Saiyan sono il Super Saiyan sono tutto io perché sono Vegeta sono il principe dei sei anni sono tutto io sono tutto io però bello bello secondo me allora secondo me questa parte più bella fatta da tuoi che nel manga sì no questo è vero sì va a messo dai perché lì dura una mezza vignetta una vignetta una pagina sì è zero la trasformazione di Goku nel manga invece il cielo diventa buio nell'anima sì sì mamma mia nell'anima incredibile è veramente troppo bella la trasformazione ma anche l'idea del Super Saiyan di Vegeta perché Vegeta non ha mai visto un Super Saiyan è quella una roba di Tuoi Vegeta immagina uno scimmione durato grande quella roba no quelle sono cose ganze che purtanto erano liberi facevano il cazzo che volevano non so se ti facevano qualche chiamatina forse sì forse no secondo me diventa sai che cosa un po' abusato proprio tutte le trasformazioni Zarbon si trasforma però quello non è una cazzata anche Freezer si trasforma sempre Goku si trasforma capito cioè tutti fanno tutti la stessa cosa ecco è questo che secondo me diventa vabbè però Zarbon serviva a snitcharti il fatto perché lui lo dice te lo dico tanto morirai anche Freezer può trasformarsi cioè ti introduce con Zarbon il concetto di trasformazione se l'avesse introdotto con Freezer sarebbe stato lì un po' troppo scontato perché non so come chiuderla mi trasformo faceva bene non lo introduceva proprio si risolveva secondo me ah no cioè te volevi Freezer puro sì a te poi trovavo un'altra forma quella là è basta ok lui è già sgravo sgravissimo ok punto però non lo so a me piaceva sta roba e si trasformava più volte sì è un po' è un po' adolescenziale è un'idea però cazzo è comunque qualcosa che è venuto prima di tutti gli altri allora facciamo così per le scene di Bulma vestita in canottiere mutante ma vaffanculo come Sigourney Weaver in Alien lo mettiamo in Z dai allora ora vi spiego una cosa della psicologia di caverna sarà molto più lunga dell'analisi di Namek ok allora Domenico siccome ha parlato talmente tanto nella sua vita di Dragon Ball e Namek è talmente tanto inflazionata e elogiata che Domenico per diferenziarsi da tutti gli altri deve aggiungere un po' di amaro all'interno di questo tiramisù aggiungere un po' più di caffè rispetto a tutto il resto buono il caffè buonissimo ergo qual è il punto il punto è che Domenico pur di non ammettere che queste scene classiche Super Saiyan Squadra Genio Trasformazione di Freezer sono iconiche trova altre scene iconiche che guarda caso tra l'altro implicano anche l'introduzione della topa sono quelle che portano la votazione a Z così ha salvato Capri e Cavoli ha salvato il suo aspetto divulgativo e il suo aspetto da controcorrente dico vero e dico male hai detto benissimo ok garlic junior dai facciamo anche garlic junior cavalchiamo il meme vabbè cavalche su quattro puntate quante sono non mi ricordo me lo ricordo ti ricordi che c'era cos'era quella lampo era il film quella lampolla con le non mi ricordo mettono dende e popo dentro le le ampolle si si mettono loro e poi combattono con gli altri vabbè ma inutile dai ma che cazzo ma non è niente sta roba tipo dei vampiri diventano cattivi cioè c'è un'influenza cattiva sulle persone della terra e c'è Cici che tipo fa il Kaioken incazzata no ma mi ricordavo anche che c'erano dei nemici che assomigliavano tanto ai minion di Dio di Jojo della terza no della prima di Phantom Blood non sono caratterizzati bene come i suoi primi minion nel film quello secondo me funzionava ma poi scusate ma se il film è vero masullo cronologicamente non torna all'interno della serie di Dragon Ball Z perché fai un filler di un personaggio che loro hanno già incontrato con riferimenti alla loro battaglia precedente se cronologicamente non torna perché Goh non si ricorda di piccolo è la prima volta che si incontravano con Radic cioè come fa oh casino F come filler F come filler non è Pio Broly ma è F è filler vai c'è qualcosa sia poi se c'è qualcosa in Pio Broly ho visto delle robe soprattutto non ti preoccupare ok alla notte anche se no io farei androidi e Cell dividiamo? o fa tutto e tutto e tanta roba dove perché Cell comunque se non venta dopo palesemente non c'era prima no ma anche per ammissione stessa sua con Kondo con gli altri editor si è inventato sempre i nemici ha cambiato tutto però secondo me era interessante l'idea di lui che viene dal futuro con la spada infatti se noti appena cambia cyborg la spada sparisce perché palesemente la spada serviva a combattere contro i cyborg che assorbono l'energia dalle mani se non ci combatto corpo a corpo combattono la spada sono salvo poi però si è cambiata sta cosa ti immagini come sarebbe stato bello un addestramento non per aumentare la forza ma per padroneggiare delle tecniche di spada quanto sarebbe stato figo allora c'è una scena dei filler di Dragon Ball Neta nel futuro che c'è Trunks che cammina in mezzo a tanti soldati mezzi rovinati storpi distrutti e c'erano tutti la spada tutti perché tutti devono combattere in quel modo là con le spade se no quelli ciucciano l'energia bellissimo a me sarebbe piaciuta una roba del genere ma non lo so guarda la saga degli androidi io ci metto anche Kim Jong-woo e Gero in realtà non è male per niente perché è un altro Dragon Ball c'è un Dragon Ball più cupo è un Dragon Ball horror a tinte oscure no? come si presentano abbiamo detto mille volte Yamcha impalato probabilmente trafitto nel petto una cosa proprio brutta da vedere gli androidi però fa troppo casino c'è da dire quello perché prima erano un modo poi Trunks capisce che ha cambiato il futuro anche la malattia di Goku al cuore mi sembra un po' un pretesto per nerfarlo levarlo di culo perché se no sarebbe stato troppo P non lo so è bella c'ha tanti alti ma anche tanti bassi è un bel bordello cioè non si sapeva bene dove voleva andare da un po' tutte le parti te cosa ne pensi Domenico? no no io sono d'accordo con te nel senso che aveva un'idea che era una sua soddisfazione personale perché a lui piaceva fare quelle robe là cioè lui voleva raccontare una storia creepy sporca violenta anche un po' brutta perché c'è quella scena come dicevi tu quella della mano che trapassa Yamcha ma c'è pure l'introduzione dei cyborg la prima volta che arriva il dottor Gero prende un tizio per la cola lo stridola gli zompa via la testa mamma mia è vero che gliela piega così proprio in tutto il collo è una cosa tremenda cioè lui voleva fare una cosa horror cattivissima violenta però forse gli hanno detto ciccio guarda questo è comunque il ragazzino non esagerate ha giusto un po' il tiro dai cazzo perché Cell Cell prima forma mostruoso è bellissimo però aspetta non arriviamo ancora a Cell facciamo prima i cyborg perché se no è un casino vabbè Trunks bellissimo personaggio belli loro belli come vengono fuori in quelle capsule funzionano solo solo il design funziona poi il resto anche il design di Gero e Kim Jong-un secondo me è ganso sono stranissimi loro comunque respingenti proprio grazie Carlo Depo non lo so non lo so io sono indeciso gli darei un B ma sì secondo me è B anche soltanto perché Trunks arriva fa il culo a Freezer in un attimo sì è bello Cyber Freezer non è male ma anche Trunks è ganso poi c'è Vegeta Super Saiyan che comunque fa un service puro ma comunque piace è interessante dai B ok Cell dai ci siamo la sacca di Cell poi arriva Cell che è un android comunque ricordiamolo è Cell perché tutti se lo scordano è un android organico è un uomo artificiale un uomo artificiale cioè viene usata sempre la definizione Shinzon Ingen uomini artificiali lui è un esperimento di ingegneria genetica molto molto particolare tra l'altro secondo me Cell è un personaggio interessantissimo perché idealmente lui non unisce soltanto le cellule le caratteristiche potenti di questi guerrieri di cui lui è formato è fatto da cellule di piccolo Goku Vegeta Recold e Freezer lui è fatto anche secondo me dello spirito di questi personaggi senza dubbio c'è proprio quel momento dove lui dice guarda questi quanto sono diventati forti in due giorni ma sai che faccio ma se gli do più tempo esatto se gli do più tempo riusciranno a darmi uno scontro soddisfacente questo è un ragionamento da Cyan totale totale assolutamente sì sono d'accordo più che altro se nella saga dei cyborg il fatto che lui non sapesse bene dove andare e seguisse tantissimo le direzioni i cambi di rotta improvvisi dell'editor in cell è stato leggermente più dolce nonostante sul finale cada un po' perché cell si vede che c'è una direzione la direzione è l'horror la trasformazione continua l'assorbimento dei cyborg l'introduzione di nuovi personaggi che devono sostituire Goku guarda piccolo come tiene botta con C-17 oppure guarda Gohan lo spazio che dà Gohan è la rivoluzione che ci sarà poi alla fine del cell game con la potenza di rompente di Gohan il rapporto di Vegeta e Trunks che si evolve e ti fa capire che Vegeta sta diventando sempre più umano insomma la direzione lì l'ha presa il problema è che si è un po' rovinato sul finale perché c'è tanto casino lui che rigozza C-18 per intero la cazzata del nucleo di cui abbiamo parlato mille volte il cell game che doveva essere un torneo con delle regole delle robe poi va tutto un vacca e diventano i Cell Junior che iniziano a massacrare tutti diventano scontro da Dragon Ball Classico insomma sul finale si perde un po' però il problema è che il finale è lungo è molto molto lungo sì e poi poi si scatena io come ho sempre detto sempre vi dirò non si doveva incazzare per C-16 che senso c'ha è un po' forzato però nel complesso una saga Ganza una saga che cerca di sfidare se stesso perché cambia totalmente mood sì la secondo me Toriyama ha perso veramente un treno ottimo perché con il fatto che Trunks nel futuro era stato allenato da Gohan si poteva fare il contrario e Trunks allenava in qualche modo Gohan nasceva un rapporto tra loro due tra i figli dei due Saiyan puro sangue e se fosse morto poi Trunks Gohan ci sarebbe potuto rimanere veramente male vedere questo nuovo amico che moriva poteva essere interessante farlo così certo oppure io avrei ammazzato Piccolo perché il suo maestro il suo padre praticamente insomma io avrei ammazzato Piccolo poi è vestito come lui in questa saga quindi sinceramente sinceramente proprio Piccolo alla fine si era già sacrificato Gohan già l'aveva visto morire la prima volta secondo me si ripeteva un po' se invece faceva morire Goku cioè Goku invece di tirarsi indietro e fa tutta quella menata moriva durante lo scontro anche so che tanto c'è qualcuno dopo di me che ce la farà lo fa uguale lo fa uguale quando scoppia Cell quindi succede esattamente quello quindi vabbè vabbè comunque allora io direi di abbassare a questo punto la vecchia Sibilla lo metterei in A e cosa vogliamo mettere A o SSL ma mettiamo lì in S dai ci sono tanti concetti nuovi interessanti c'è anche Gohan Super Saiyan 2 che comunque ci sono personaggi comunque positivi che torna tipo C18 molto buona dai bello dai va bene va bene il viaggio nel tempo no la stanza allo spirito del tempo fighissima dai anche quella come cosa è figa è un po' anche quella una paraculata però va bene allora abbiamo la saga quando il torneo il torneo delle quattro galassie quello nell'aldilà dove c'è Pai Kwan grazie a me dove ci sono gli altri Kaio dove l'altro uno solo è ufficiale tra l'altro uno solo è del manga canonico esatto esatto canonico gli altri sono dei design inventati per l'anime qua c'è la prima volta in cui si vede Goku che usa il Kaio Ken con il Super Saiyan fra l'altro che effettivamente è una cosa su cui ci ha riflettuto solo lato Ehi probabilmente sì 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 Toriyama gli importava una sega ragazzi il Super Saiyan basta Kaio Ken facciamo vinta ma sì facciamo uno in più dai perché no perché tanto dopo l'hanno ripreso con Super torna torna che cazzata vera va bene va bene beh non lo so una cazzatura poi finisce in una maniera cioè quando toccano il cielo ti ricordi che toccano che è praticamente la fine è solo un cavillo del grande Kaio perché non vuole combattere che palesemente è molto più debole rispetto a loro eh mi dispiace è il limite non lo so per me è un D tanto perché perché Paikwan comunque non era brutto perché come design come personaggio a me non dispiaceva tanto sì allora si vede che volevano fare un piccolo 2.0 dai tipo dai diamo a Goku questo grande amico perché piccolo non c'è più lui è morto mettiamolo lì è un po' lo sai perché mi piaceva Paikwan perché è il piccolo che vediamo adesso c'è il piccolo di Dragon Ball Super Super Heroes cioè è intelligente però anche incredibilmente scemo si vuole adattare al mood del suo amicone però non lo capisce questo mood e quindi fa la figura del coglione era un po' il piccolo che abbiamo adesso Paikwan secondo me guarda che potrebbe andare in D in D e andiamo in D ok no eccoci a parte che questo è più anime 6 ne hanno fatte 6 l'hanno diviso in 6 la saga di Machin B no 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 aspetta prima di Machin B c'è Great Siamen che va secondo me presa a sé perché ti ricordo che è più lunga nell'anima hanno fatto tanti filler di Great Siamen addirittura sono molte puntate dove si spiega diversamente la storia diciamo Videl riesce a intuire prima e meglio determinate cose c'è Gohan incontra anche altre ragazze perché io non so se tu ti ricordi com'è la sigla di Wigota Power la sigla di la sigla di Wigota Power ti fa vedere Gohan è da una parte il Videl ed Eresa dall'altra e stanno in mezzo quindi diciamo idealmente si crea un triangolo amoroso mai vista sta cosa alla fine quando ci sono tutti i personaggi si abbracciano tutti e da una parte ci stanno Videl Eresa e Sharpner quello con i capelli lunghi e tu dici questi faranno parte del cast principale sono personaggi importanti spariscono in 20 episodi tipo cioè mai più recuperati stanno nella sigla quei personaggi sono spariti lui voleva fare proprio voleva fare un team drama con Gohan dove Gohan diventava un personaggio protagonista di un tokusatsu che sconfiggeva i mostroni io non so cosa gli era preso a Toriyama in quel periodo perché comunque lo vorrà introdurre anche nel manga poi Toei ci ha fatto ovviamente ci ha pigiato un sacco però tutti poi oh ma dov'è Goku fa tornare Goku coglione tanto si sa che deve tornare torna e insomma ma poi anche il design della tuta a me non è mai piaciuto tantissimo devo dire la verità non lo so a me a me fa schifo sta roba è tutto filler tra l'altro quindi a parte un pezzettino del manga quindi non lo so no secondo me è basso siamo dalle parti di E ok non più basso di Garlic ma lì ok Majin Buu Majin Buu lo prendiamo tutto insieme dai ok dai dai quando torna poi come si fa vabbè Goku torna finalmente perché è quello che tutti volevano loro sono tutti potentissimi in segreto Vegeta ha continuato ad allenarsi è diventato potentissimo Trunks e Goten sono Super Saiyan nessuno sa come perché Krillin si è sposato con C-18 era una figlia adesso c'è quella domanda ma scusa come hai fatto a fare sesso è cambiata un po' il robot ma no non è il robot è un po' diversa tanto la presa dentro è la stessa non ti preoccupare ah va bene ok ho fatto anche io due volte e vanno avanti così e fanno il torneo prima poi c'è quella rivincita di Vegeta bellissima quando c'è il torneo dei bambini con Trunks che vince su Goten e Vegeta fa oh è vista è mia figlia e lì dici questo sei in borghesito questo è diventato sì 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 ormai andato abbiamo perso sì sì guarda sei inorgoglito per il figlio però vabbè era divertente poi Kaioshin quando arriva all'inizio palesemente un cattivo con lo sguardo maligno no secondo me non era un cattivo ma l'aveva previsto molto più potente poi l'annerfato secondo me eh sì questo sì madonna mia il fatto che dovrebbe essere chissà quale creatura potente alla fine secondo me era un po' un birz dell'epoca era un virus dell'epoca secondo me tipo stronzetto se fai qualcosa gli schiaffoni però potentissimo e in realtà sotto sotto buono questo era un po' il principio del poi è dato tutto a puttane subito allora secondo me la saga di Buo era una saga dove Toriyama si è divertito come un pazzo ma allo stesso tempo gli hanno lasciato un po' troppo briglia sciolta e ci ha messo tutto trasformazioni fusioni assorbimenti rigenerazioni il torneo poi non il torneo ma c'è invece sai che cosa ti dico secondo me in questa saga le cose che fa peggio Toriyama sono proprio le battaglie perché ogni volta che loro ottengono un nuovo stadio una fusione un potenziamento e combattono quelle battaglie non servono a niente sono tutte inutili le parti più belle paradossalmente sono quelle dove c'è Satan che cerca di farsi amico Majin Bu e cerca di salvare il mondo a modo suo le parti più belle sono dove veramente Gohan fa il supereroe oppure che ne so le debolezze di Vegeta le fragilità sue di persona cioè sono quelle le cose più belle le battaglie le battaglie sono una noia brutte lo sai non lo so più che altro si è vero non aveva senso la battaglia tra Goku e Vegeta ma scusa se tanto c'è il Super Saiyan 3 no ma che vuol dire ma poi anche il modo in cui si risvega Majin Bu no ma in realtà l'ha assorbito picchiando Goku cioè ci sono delle forzature si senza senso cioè prima mi dice devo rubare energia con quel cosetto con la siringa ok la siringona e faccio la siringona e poi dopo no vabbè tanto qua finché siamo nella mia navicella tutta la navicella assorbe vabbè questa è la solita cosa di Toriyama per risolvere in fretta le cacate che inventa prima lo sai cosa è che Majin Bu ha due o tre momenti che sono veramente due o tre momenti più belli dei dieci di Dragon Ball tutto il problema è che c'ha delle debolezze e delle ingenuità assurde proprio perché si vede che non aveva più controllo secondo me Dragon Ball era diventata una creatura talmente forte in Giappone anche a livello editoriale ma non solo insomma per tantissime aziende era diventato un brand talmente potente che Toriyama poteva fare bene o male quello che voleva e l'ha fatto però l'ha fatto con tutte le sue ingenuità l'ingenuità di Toriyama però ci sono dei momenti tipo il sacrificio di Vegeta l'abbraccio tra Trunks e Vegeta e ragazzi il momento Genkidama con tutte le braccia alzate che è forse uno dei tre momenti più alti di tutto Dragon Ball con la fusione ci sono anche dei momenti secondo me un po' più piccoli che passano in sordina tipo Goku quando vede piccole crini trasformati in statue dallo sputo di Darbola e dice e adesso come facciamo? Krasinno è tutto preoccupato quella scena la citi sempre la citi sempre ti fa impazzire dobbiamo uccidere Darbola tutto preoccupato come facciamo? Goku si gira e fa è facile come è facile? Darbola ma poi chi è Darbola? c'è anche Bellosa lì no Darbola degli inferi perché non ha mai parlato nessuno? cioè se questo personaggio da dove è venuto fuori? ma poi c'è un'altra cosa bellissima vabbè a parte le fusioni con orecchini che anche è una cazzata vabbè che hai quella è una cosa eccezionale quella è ancora più bella come fusione proprio per quello perché il design dei vestiti è fondamentale anche nei colori e tutto però c'era una roba che mi piaceva tanto che mi ha sfuggito un'altra volta che qualcuno incettava oddio mi ricordo più ovviamente mister satan che diventa il miglior personaggio di Dragon Ball perché ha i miei personaggi che fanno la parte del pubblico come Usopp in One Piece satan ora poi Usopp è diventato un po' più forte però probabilmente Usopp è l'occhio del lettore all'interno della barca di Mugiwara questo è satana all'interno dei guerrieri Z cioè un mischiato e quindi a me quella roba piace perché lui è l'uomo del popolo bellissimo il rapporto col cagnolino beh è troppo bello poi Machin Buu comincia a sviluppare anche il bene la sua vicinanza con mister satan gli fa capire delle cose importanti cioè è bello bellissimo vabbè per me non arriva a Namek non arriva ai Saiyan non arriva però a livelli di Cell per me è S tranquillamente sì 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 S ci sta dai un S plus un S plus perché c'è comunque la fusione che mi piace da impazzire mi piace più Machin Buu rispetto a Cell perché è un personaggio più anarchico stupido come piace a me come piaceva il vecchio Toriyama però ci sono troppe falle troppe falle dappertutto dappertutto non le elenchiamo perché le abbiamo elencate più volte in vecchia occasione però va bene così ah c'è anche il finale che è molto toccante lo metto dentro vabbè questo è a parte però vabbè tanto ci sta ok oddio ora comincia GT sì bella monnezza questa allora l'hanno divisa bene allora c'è la saga delle sfere nere la saga delle sfere nere delle sfere con le stelle nere con le stelle nere baby il super c17 e poi i sette draghi malbaci ok finissimo dai ce la giochiamo facile mettiamo tutte quante in bio broli e via tutte allora super c17 sicuramente la saga delle delle sfere malvagie diciamo così te la metto in e perché comunque aveva l'idea di tornare al vecchio dragon ball al viaggio alla scoperta dell'universo e siccome te non conosci l'immensità dell'universo potevano esserci delle minacce impreviste peccato che le minacce fanno tutte cacare esatto esatto vabbè esatto forse saga di baby allora non lo so saga di baby potrebbe stare un po' più sopra perché c'ha senso baby come cattivo effettivamente è una merda si il popolo di Yitzufuru che torna a vendicarsi si hanno recuperato stelle cose di Yitzufuru lui che si autocrea perché praticamente lui è la somma del DNA dell'ultimo degli Yitzufuru che poi mette in questa macchina e crea un pianeta di macchine mutanti per darsi vita da solo no si però c'è delle ose ci sono le onde bluz te le ricordi le onde bluz che trasformarono Vegeta poi i design tutti sbagliati fanno schifo però c'è il Super Saiyan 4 eh porco tu è vero è vero scordato si è dimenticato e beh sì c'è il Super Saiyan 4 Dragon Ball ma hai sentito una merda è l'idea più bella di Dragon Ball G no guarda secondo me secondo me è pure di Dragon Ball in realtà perché tematicamente torna voi avete usato le sfere tutte queste volte si a torna io l'ho sempre detto e questo usare le sfere però per la grande legge dello Lin e dello Yang che ha creato la negatività eh te devi stare attenta la prossima volta sì sono d'accordo sono d'accordo ok qui si va più nel tuo campo anche se io alla fine del Super l'ho visto tutto ehm a forza devo dire la verità c'è una delle cose più belle di sempre sì però fai il serio Domenico fai il serio ti prego eh fai il serio ti scongiuti la cosa più bella della prima battaglione insomma questa qua della trasformazione di Goh Wingot contro Beerus secondo me è proprio il tema che cambia un po' dice Saiyan finora li abbiamo sempre vissi come dei tizi che si devono incazzare ma in realtà Goku God funziona tantissimo come personaggio come design lui che è è più calmo che poi è diciamo in linea con il personaggio di Goku che non è mai stato troppo pazzerello certo selvatico ma non uno scarminato quindi il fatto che sia più asciutto più veloce con lo stesso design perché è sempre con gli stessi capelli però sono rossi anche però gli occhi cambiano anche più dolci lo sguardo più dolci diventano tondi cambia proprio la pupilla pure da Super Saiyan God e secondo me l'idea di mettere insieme che poi è un pretesto stupidissimo però di mettere insieme tutti i Saiyan per fare il cerchio magico è una cosa da Tokusatsu di tutti che danno l'energia per far dire è anche un pretesto un po' scemo domenico avvocato del diavolo qua perché scemissimo io lo anticipo metto le mani avanti a me piace perché è molto Tokusatsu quindi dico sono un po' di parte allora guarda io ti dico la verità sono d'accordo con te sul Super Saiyan God sul come ottenere la trasformazione non tanto perché è un po' vabbè allora battagliona con Virus però è divertente è divertente però qui c'è da metterci anche di mezzo le animazioni perché se non scordiamoci che qui abbiamo parlato per ora di manga a parte Garlic e Great Saiyan e manga ragazzi è tutto eccezionale a livello tecnico altissimo sempre con Dragon Ball qui bisogna parlare del livello tecnico di Toei perché è solo anime vabbè in realtà ci sono anche due o tre vignette dedicate a questa roba mi pare nel manga no c'è più roba in realtà sul manga di Super su questa roba c'è un po' più roba poi dipende dipende dalla saga no è cose Golden Freezer che hanno messo quello un po' più accelerato e quindi a livello di animazioni fa insomma fa un po' più età meglio il film sicuramente nonostante che lì ci siano delle cazzate in 3D veramente brutte non lo so ci sono c'erano delle cose carine il film mi è piaciuto la spezzettatura in anime non tanto il manga secondo me guarda per lo stesso motivo poi facciamo lo stesso ragionamento con questo Golden Freezer e poi li mettiamo no peggio per me Golden Freezer per me molto peggio poi ti dico perché più di C la saga di Goku God non va più di C C per me non di più di C è tanta roba eh vabbè ma Baby no Baby D vabbè ci starebbe vabbè mettiamoci dai anche perché non introduce niente di nuovo questa saga a parte questa cosa più basso più basso cazzo sta subito sotto gli androidi cioè gli androidi dove no dai non è a livello non può essere un grado sotto di androidi vabbè ma nemmeno a livello dei draghi malvagio facciamo così guarda fai così tiè vabbè facciamo così dai ok ok va bene va bene facciamo così e Golden Freezer per me va in F quasi cioè perché allora a parte che il modo in cui torna Freezer è stupidissimo è la cosa più stupida che potevano trovarla l'hanno trovata la trasformazione non serve assolutamente a un cazzo e il fatto anche il pretesto con cui si tratta no perché non mi sono mai allenato ma che vuol dire ma che vuol dire no ma poi quando diventa Golden dice ho scelto il colore d'oro per omaggiarti ma che cazzo dici ma l'hai sempre odiati lo sceglie ma che cazzo sceglie ma che vuoi scegliere le mattonelle ma via dai ma chi gliel'ha fatta e sceglie e poi c'è un pattern come ha fatto c'è un laboratorio genetico ma io dai ragazzi ci pensa forse non lo so non ci pensa no no per me per me ma forse è pure sotto F sinceramente addirittura ma sì ma io lo metterò accanto a Garlic Junior a Sprecio proprio per ridere così va bene ok no dai F perché comunque Super G17 non ha niente proprio è tutto sbagliato è lo zero cosmico va bene qui invece c'è la sfida con l'universo 6 i gemelli ok sì l'universo gemelli quindi l'arrivo di Ciampa l'introduzione del multiverso l'idea che esistano altri Saiyan altri Namecciani potenzialmente poi arrivano rubato tutto rubato tutto le 12 inshi questo ricordiamolo ma le semente multiverse letto piaciuto messo dentro la storia grazie lo prendiamo intero e vabbè la stanno ancora a rosicare i francesi di Dragon Ball Multiverse ma eh vabbè quello non è ufficiale non dovevate farlo esatto perché può succedere questo o dopo che hanno preso un disegnatore di Don Jishi a fare il manga ufficiale io insomma avrei smesso istantaneamente non so se è il periodo o la tempistica però grazie che ho fatto molto Matteo Fede Paolo che dici? non se lo sarebbero mai immaginato che andavano a recuperare comunque secondo me a me il design di hit fa caccare te lo dico eh beh testa di cazzo sostanzialmente testa prepuzio proprio in realtà è divertente il fatto che lui abbia tipo le mani nelle tasche ma dei capelli ce li potevi mettere dai si deve fare l'algido killer che c'ha mille anni così vabbè però un po' freezer anche il solito design di freezer con le robe sotto gli occhi sono più divertenti gli altri tipo Botama che è l'orsetto Maghetta che è il robot oppure Cabba che è un altro Saiyan poi la copia di Freezer vabbè è qui che introducono il motivo di come si trasformano in Super Saiyan del Prurito no no è più avanti ok nell'altro torneo qua è ancora soltanto facciamo una battaglia tra i nostri due universi che è un pretesto per trovare le super sfere del drago perché Shampa voleva esaudire in desiderio e manco mi ricordo il cazzo era poi alla fine vincono i nostri e stica vabbè va anche il fatto di vedere le sfere giganti e poi retconnare tutto dire no ma le sfere che di Namek e della Terra sono un pezzettino grattato ma poi è un universo troppo piccolo mi ricordo che c'erano pochi pianeti ti raccontano che 28 pianeti abitati ma va una cazzata secondo me questo questo pure è basso eh deve essere basso eh sì più che altro perché le battaglie sono divertenti e interessanti rispetto a quelle di Freezer copy Vegeta saga qual era allora praticamente loro vanno su un pianeta ad allenarsi ma nell'anime questo? nell'anime esatto è un fillerone rimosso praticamente no questo è divertentissimo perché praticamente succede sta cosa Vegeta tocca una sostanza schifosa su questo pianeta ah sì la Melma e gli ruba il corpo sì sì no no sì basta basta questa va a Biobroli Biobroli però ti ricordi che Vegeta per non morire deve mettersi un ciucciotto? sì 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 bello tutto bello gli mettono questo ciucciotto perché eh no fa ridere Biobroli è via vai in posto allora Future Trunks Zamasu Zamasu Fuso eccetera allora secondo me Zamasu Fuso è un bel personaggio anche Zamasu normale anche Zamasu normale Zamasu normale è perché ti fa vedere dice guarda sti Kaioshin ma non è che sono tutti buoni guarda c'è pure qualcuno stronzetto no sono d'accordo e poi nel futuro Trunks si bomba mai sì vabbè ma chi mi frega di sta stronzata vabbè interessante scusa vabbè ma ci aggrappiamo proprio al nulla ma come al nulla è importante voglio sapere scusa sennò va bene va bene non lo so quando arriva da Black Goku però la prima volta fa veramente cacare sotto è cattivo è quello il problema il finale è proprio una roba non siamo in alto siamo base stiamo parlando sempre che ci stiamo litigando da DF non è che siamo vabbè te lo do in D se ti piace sta cosa di Mai te lo metto un D ma per me ma poi c'è Trunks che diventa Goku del suo periodo cioè Trunks con la spada fa la Genkidama tutti si affidano a lui gli danno l'energia e lui la mette nella spada quello è il ganzetto si vabbè vabbè è Tamarro è Tamarro però va bellino dai e ok ora c'è Universal Survivor il torneo del potere finale c'è anche Freezer che combatte con Goku che abbiamo fatto cacare allora è bello da vedere è bello tra l'altro l'ultraistinto come design a me piace a me piace più l'ultraistinto non ancora completo non so come la pensi te per esempio l'avrei preferito ok a me capelli neri lo sai fanno impazzire più del grigio del metallizzato diciamo è un po' l'idea come il god tipo il Goku rimane normale però con sta cosa la diventa rosso qua sono neri neri ma l'occhio mi piace l'espressione alla Vegeta mi piace però non mi è piaciuto il fatto di far diventare Freezer in quel momento dalla parte dei buoni seppur momentanea come scelta non mi è piaciuta Freezer per me doveva rimanere un criminale incallito proprio e invece hanno preferito una scelta più più alla Vegeta non mi piace guarda è un po' il classico tema di Dragon Ball il mio più acerrimo nemico alla fine si allea con me vedi piccolo vedi Tenchiran vedi Vegeta vedi Freezer non mi piace a me con Freezer no dai però cazzo la battaglia finale Dario è ma non c'è 7 che sta lì spari contro giriamo diamo tutto per tutto Goku che si lancia contro gire hai ragionissimo ti do ragione sono d'accordo però giren che cazzo i personaggi merda è un artista marziale che ha perso tutto vabbè vado venire ma ce n'è 100.000 così dai ma non come giren lui è l'uomo V no è fatto da V un design così è fatto a triangolo su questo ci troviamo però insomma troviamo un punto d'incontro non c'è problema non lo so vabbè tanto pure qua stiamo litigando sempre basta non è che sale però però penso che questa secondo me potrebbe stare proprio in mezzo perché è il punto di unione ok allora per me sarebbe da D però ti vuoi metterci intuisco la mettiamo perfettamente in mezzo perché è tanto nostalgica quanto una merda è tanto animata bene in certi punti quanto povera di caratterizzazione cioè proprio è così è un'altalena incredibile che lasciamo lì in mezzo non fa malare l'altalena schizzatissima però c'è si raggiunge della roba va bene fatti suoi oh cioè ritorno vabbè l'introduzione di Broly come personaggio canonico a differenza dei vecchi film boh a me non è piaciuto il film quindi non non faccio testo non so cosa ne pensi te non mi ricordo se ne abbiamo mai parlato approfonditamente però il film no non abbiamo mai parlato allora il film secondo me è allora è uno showcase è una pubblicità la Toei ha detto guarda che te faccio vedere so fare tutte queste cose qua ma si sono dimenticati di fare il film praticamente si sono messo a fare tutte le scene incredibili animazioni faccio vedere questo faccio vedere questo lo sappiamo fare meglio di studio trigger questo lo sappiamo fare meglio di KyoAni questo lo sappiamo fare meglio degli altri siamo Toei ragazzi ricordatevi di noi la storia la storia dell'animazione giapponese si 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 ho capito tutto benissimo però in realtà il personaggio di Broly secondo me è quello che poi ne esce meglio un Tarzan ingenuo poi secondo me l'hanno fatto più coerente nel senso che il vecchio Broly mingerlino poi quando si pompa diventer gigante questo l'hanno fatto già grande punto già grosso poi un po' ingenuo però il fatto che lui ha l'amico mostro l'orecchio dell'amico mostro legato alla vita perché comunque è un bambino cresciuto su quel pianeta senza tanta educazione senza sapere molto del mondo sapeva solo combattere e fa quello è rimasto con questo ricordo ingenuo è molto giapponese del bambino che sta col mostro che nessuno capisce a me è bello mi scalda il cuore ok io invece faccio sempre un avvocato del diavolo per me il fatto che il registro stilistico del film cambi continuamente non c'è una coerenza stilistica ma appunto come diceva Domenico è più uno showcase di tante cose diverse ma si perde il filo conduttore cioè questo e poi al di là delle botte il picco finale del trash con i modelloni in CGI in stile Budokai Tenkaichi brutto bruttissimo e poi soprattutto ragazzi se te vai a vedere il film non c'è niente cioè non c'è Toriyama non c'è solo le cazzate di Toriyama non c'è cioè non c'è nulla è poca roba c'è poca sostanza poca carana al fuoco è solo visivamente emozionante perché è emozionante vedere le battaglie la musica sotto da wrestler che è bello quello sì go go broly go 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 cita go cita cioè quelle robe sono divertenti però ti devi piacere solo che si picchiano vedete che la storia se la sono dimenticata va bene e io quella cosa che dici tu ti do pienamente ragione perché cambiare ogni volta il character design dei personaggi a parte che ti porta fuori di testa cioè all'inizio Vegeta è disegnato in un modo e dopo è completamente diverso ma non solo Vegeta lui è quello che si nota di più ma tutti gli altri personaggi c'è una parte dove broly sembra Mark Lenders cioè no non ci azzecca niente ma chi l'ha disegnata sta parte e quando vedo questo è come la fotografia per il cinema se non c'è un character design uguale è come se la fotografia ogni volta cambiasse in un film e che cazzo capisci che mood c'è non torni più all'interno ti tira fuori dal film non ci torni più dentro e allora vabbè per me e resta Basserello oddio non lo mettere sì non lo metterei in A non lo metterei in B non in C perché deve stare da solo abbiamo deciso così non l'avevo capito questo allora facciamo che vuoi fare no però non posso no in realtà a livello di del dio della distruzione bene o male ci può stare ma sì tanto si picchiano sempre qua va bene si picchiano qui si picchiano anche lì però tiro giù questo allora no però questo non va bene però è una scammata eh scammatina sì 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 mi dispiace ma facciamo così e non ce la faccio quando ho visto Zamasu due facce metà normale metà a me il mostro ho detto no via con braccio gigante al Hulk anche l'anello oh belle queste saghe qui siamo al picco secondo me ma che è l'acqua che ci sta galactic patrol price nerd saga e poi granola oh ok vabbè dai eeeh senti io ti propongo questo poi dimmi te FBO brawly sai che un po' non lo so forse invertirei ok cambia poco veramente poco ma sai perché perché alla fine c'è nella saga di granola c'è un piccolo approfondimento sui saian che secondo me faceva bene a dragonborn ritornare un po' all'origine dei saian goku che trova lo scouter di suo padre per la prima volta c'è una bella immagine di lui che guarda lo scadere e sorride un goku maturo umano che abbraccia ancora di più la sua natura saian secondo me non è male sempre a merda però ok e poi quindi questo ci abbiamo fatto un capitolo della cultura insieme quindi andrei veloce chiuderei dragon ball andatevi a recuperare nel caso il nostro capitolo della cultura che trovate su youtube è più buttato che cosa vogliamo fare boh per me provocazione no provocazione onesti hai detto che devo essere onesto io no provocazione in positivo io dicevo provocazione in positivo e vediamo dove lo piazzi te lo metti ma io ti dirò ah ah ma si si per me per me ti dico che in s non era male questo facciamo dai troviamoci a metà dai troviamoci a metà dai una categoria a parte tra s si qua qui qui si è lì dai perfettamente lì perché ci siamo delle cazzate che lo possono far scendere altri che lo possono far salire ci siamo va bene domenico io ti ringrazio per questo momento è stato molto bello siamo in bollissima tra l'altro grazie di cuore della partecipazione comunque vi faccio vedere un breve recappone ecco l'IZ ecco la S ecco A B C D e via abbiamo tutto anzi guarda vado a farvi vedere il quadro completo dezoommando un po' ecco stupendo guarda che guarda è la apoteosi della schifezza la sintesi della disgrazia questa eh sì però vabbè alla fine siamo stati anche troppo anche buoni si vede che siamo avanti di Dragon Ball da quest'anno guarda che qua dove è andato tutto in B ciao domenico buonanotte grazie milletario ti mando un'altra scuola ciao grazie chat ciao grazie a tutti